Dopo un campionato esaltante, segui il Napoli nel prossimo ritiro precampionato nella splendida cornice della Val di Sole in Trentino. L'hotel Tevini ti aspetta con le sue eccezionali offerte. Per un soggiorno minimo di 4 notti, in trattamento di mezza pensione, Camera Comfort a 305 euro a persona fino al 16 luglio. Camera Comfort a 345 euro a persona fino al 25 luglio. Le offerte sono valide dal 5 al 25 luglio 2017. I prezzi includono la Val di Sole Opportunity Guest Card Trentino, utile per tutti i tuoi spostamenti in Trentino, utilizzo della piscina interna con idromassaggio ed accesso alla zona benessere, mini club per i bimbi dai 3 ai 10 anni. L'hotel Tevini è a tua disposizione per creare la tua offerta personalizzata a misura di tifoso. Hotel Tevini, info e prenotazioni allo 0463 974 985. Info chiocciola hoteltevini.com Prenota la tua vacanza da tifoso. Hotel Tevini e la Val di Sole ti aspettano.